Sono stati due anni fantastici, però purtroppo sabato non possiamo pensare mica a tutto questo, anche se ho avuto due anni bellissimi di rapporti con lui, è chiaro che sabato per me, nel momento in cui inizia la partita, ma penso anche io per lui, è il mio nemico. Così Roberto D'Aversa su Carmine Gautieri, il tecnico della storica promozione in Serie B e dell'attrettanto storica salvezza del Lanciano. Ora però il Gaucio guida il Livorno che sabato arriverà al Biondi per giocarsela. D'Aversa apre ancora lo scrigno dei ricordi quando era in campo con la fascia da capitano. In quei due anni abbiamo avuto un rapporto bellissimo, ripeto, sotto l'aspetto umano, lui mi ha dato tanto, mi ha dato responsabilità e io, come ho sempre detto, ho dato merito a lui perché comunque il fatto di farmi sentire importante dipende spesso da dare all'allenatore. Ma del resto poi non è che sia stato solo merito del Misti che ha dato responsabilità a me, perché se io non avessi avuto dietro quell'asse portante per tirascinarsi e poi dietro tutti i giovani e gli altri non avremmo fatto niente. Quindi il merito di tutti, ripeto, mi ha dato la fascia da capitano e di questo ne sono stato capo, ma penso di averlo dimostrato anche l'anno della Serie B quando magari spesso e volentieri non giocavo, ma a me quello che interessava era sempre che non cambiasse l'aspetto umano, perché per me è molto importante. Poi andare in panchino a giocare, chiaro che mi dispiaceva, non è che non mi dispiaceva, però la considerazione è sentirsi importante anche quando magari uno non gioca e quindi sotto quell'aspetto non abbiamo avuto problemi. D'Averse naturalmente ha parlato anche della forza del Livorno, terzo in classifica. Viene una squadra che secondo me sulla carta è una delle più forti, l'anno scorso era in Serie A e la maggior parte dei giocatori sono rimasti, quindi deve essere per noi un motivo di grande orgoglio di misurarci con una squadra appunto forte e dimostrare che magari il campo a volte smentisce quello che sulla carta può sembrare più difficile. E' chiaro che con i miei collaboratori, ma come tutte le settimane, si analizza un po' tutti i giorni il da farsi e quello che magari si può fare per metterlo in difficoltà o quello da fare per andare meno in difficoltà noi. E' chiaro che mancano ancora dei giorni, ripeto, dall'altra parte ci sarà una squadra forte, però sicuramente non partiamo battuti perché non fa parte del nostro carattere, ecco. Grazie.